Allarmanti le dimissioni al piano sociale di zona, così il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, interviene sugli ultimi fatti accaduti all'ufficio di piano, dove nel giro di pochi mesi si sono dimessi due dei tre funzionari. Da prima, d'aprile, aveva lasciato l'incarico relativo al controllo di gestione Lorenzo Latella, poi, ai primi di giugno, è stata la volta dell'esperto in fondi europei Michele Milano. C'è da fare chiarezza su questi aspetti, dice oggi il primo cittadino del comune capofila del piano di zona. Bisogna capire che cosa ha portato alle dimissioni tre persone, tutte molto valide, due tecnici, ottimi professionisti e, non va dimenticato, un politico del calibro del dottor Martorano. L'addio di Latella prima e di Milano poi è arrivato ufficialmente perché è venute meno le condizioni per svolgere il proprio ruolo. Ma il primo era stato concomitante alla pubblicazione degli esiti del concorso per la selezione dei cinque nuovi assistenti sociali del piano di zona, per l'espletamento del quale Latella aveva ricoperto l'incarico di segretario verbalizzante, e il secondo pare sia intervenuto in connessione con la pubblicazione sull'albo pretorio del piano dell'atto di pagamento nei confronti di un consorzio di cooperative per alcuni servizi, atto che sarebbe stato poi annullato per degli errori di imputazione contabile e riformulato e ripubblicato proprio in questi giorni. Ma nessuno dei diretti interessati vuole esplicitare ciò che è davvero accaduto. Siamo in attesa, dice intanto il sindaco Gentile, del dossier che abbiamo chiesto per capire bene la gestione fino ad ora seguita. Solo dopo aver controllato la documentazione ci pronunceremo. Il nostro obiettivo è comunque quello di far funzionare al meglio il piano di zona, risolvendo le problematiche e dando risposte ai più deboli. Sul piatto però, nell'immediato, c'è da approntare al più presto la commissione per la selezione delle domande dei nuovi funzionari e dello stesso coordinatore dell'ufficio di piano, ruolo retto fino ad oggi dal ragioniere Antonio Pompeo Abbadessa. Al di là delle dimissioni, infatti, che hanno lasciato solo Ilaria Pugliese e la sociologa progettista al suo posto, il 30 giugno prossimo scadranno i termini per tutti gli incarichi, compresi quelli del coordinatore, e quindi tra i primi impegni a cui la nuova amministrazione di Sapri dovrà rispondere nel brevissimo tempo, ci sarà proprio quello di avviare l'iter per ridisegnare l'ufficio di piano. Grazie.